La Wind Tower è bloccata, Sir. L'unico modo per entrare è attraverso l'ascensore del parcheggio sotterraneo. Bersaglio svanito! È lì. Trovate! Succederà perché deve succedere. E non c'è niente che Batman possa fare. Oh, merda! Ci dà la caccia! Bella manovra, idiota! Ci sta addosso! Battene! Puoi prendere i volaggi! Buon appetito! Signor Wayne? Credevo fosse riuscito a uscire. Là fuori sembra il finimondo. Cosa possiamo fare? Non temere. Finirà tutto presto. Grazie. 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 Signor Wayne, ho appena messo al sicuro l'edificio. Qualcosa non va. Posso aiutarla in qualche modo? Non pensavo che stasera sarebbe tornato qui. Ho forse trascurato qualcosa? Identità confermata. Buonasera, signor Fox. Oh, finalmente ho la tua attenzione. Unisciti alla festa. E se ti venissero idee stupide, la Wayne Enterprises avrà bisogno di un nuovo CEO. Alfred, sono alla Wayne Tower. Abbiamo avuto un intruso stasera. Ha preso Lucius. Oh cielo, sa chi possa essere? Il ladro d'identità, Thomas Elliot. Il chirurgo? Cielo, ricordo quando eravate inseparabili. Possiamo ancora, per così dire. Si è dato un nuovo volto con parti delle sue vittime. Ora è identico a Bruce Wayne. Perché dovrebbe fare una cosa simile? Motivi personali, dice. Sto per scoprire perché. Non faccia nulla di cui pentirsi, sir. Lascialo andare! Stiamo solo trattando. Dico bene, signor Fox? Ho un incarico per te, Batman. Portami Bruce Wayne. O farò crollare questa torre. Perché Wayne? Voi due eravate amici. La sua famiglia mi ha distrutto. E ora? Io distruggerò lui. I Wayne ti hanno difeso. Ah, il grande chirurgo Thomas Wayne. E pensare che una volta era il mio idolo... Finché non ha rovinato tutto. Ha fatto il possibile per salvare i tuoi genitori dopo l'incidente. Mi dispiace per tuo padre. Ma almeno ha salvato tua madre. Mi ha negato ciò che era mio di diritto. Quello schianto non è stata una disgrazia. Sei stato tu. Tu volevi ucciderli. Voglio solo ciò che è mio. Bruce Wayne ha avuto le sue ricchezze su un piatto d'argento. Non ha mai dovuto lottare per nulla nella vita. Ora portami Wayne. O distruggerò questa torre e tutto ciò che rappresenta. Fai del tuo meglio, Tommy. Bruce. Impossibile. Avrei dovuto... Si sta innervosendo. Quando punterà l'arma su di me avrò solo un attimo per disarmarlo. Troppo presto e ucciderà Lucius. Troppo tardi e avrà un'occasione. Cido. Lo farò. Il mio volto. Le porgo le mie scuse. Non dubiti. Rivedrò i protocolli di sicurezza. Va tutto bene, Lucius. Sei ferito? Me la caverò, signor Wayne. E quindi sono fortunato, immagino. Non è colpa tua, Lucius. Non posso portarlo alla polizia. Fallo chiudere qui nel cavù. Certo, signore. Ci penso io. Alfred, ho trattenuto Elliot alla Wayne Tower. Lo trascinerò in tribunale quando tutto sarà finito. Oh, grazie al cielo. E il signor Fox? Sta bene. Oh, ottime notizie. Faremo in modo che la giustizia punisca il signor Elliot per i suoi crimini. Per i suoi crimini.